oggi parliamo di prepper o sopravvivenza ciao a tutti benvenuti nel canale di walli non sai che vuole nessun problema qui sotto in descrizione c'è il link al video dove ti spiego tutto sta scaricandosi si è scaricata la batteria questo come come vi dicevo nel video precedente è il primo di una nuova playlist 10 cosa che forse non sai sono cose che ho chiesto a dei miei amici di cosa volessi volesse parlare e questa è la prima che parla di sopravvivenza e non prendete per l'armismo però visto che si parla di coronavirus di possibile pandemie e cose di questo tipo saper come comportarsi in queste situazioni secondo me non è una cosa da buttare anni fa a un evento ottenuto una presentazione che si titolava come sopravvivere un apocalipse zombie voi dovete sapere che il cdc lo vedete tutti i film telefilm dove ci sono pandemie tragedie compagna bella è un dipartimento americano che si occupa di gestire le emergenze le emergenze sanitarie emergenze civili qualsiasi cosa possa succedere il cdc utilizza proprio per insegnare a come comportarsi i zombie come esempio bene questi 10 punti li ha scritti luca angarola un amico che è un appassionato di prepper per questo video utilizzerò questo ottimo strumento dove ho scritto tutto cos'è il prepper sono movimenti gruppi di persone gruppi di persone che sono chiamati survivalisti o prepper che sono appassionati di sopravvivenza e quindi si preparano attivamente a possibili emergenze di qualsiasi tipo in descrizione troverete il link alla mia presentazione come sopravvivere a un apocalipse zombie che è su slide share o mi raccomando ricordatevi che c'è il video dei 100.000 iscritti da finire quindi iscrivetevi che siamo ancora indietro non siamo indietro di brutto iscrivetevi 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 e poi pinciate su campanella così sarete sempre informati quando pubblico qualcosa di nuovo punto 1 la gestione del rifugio cosa succede è successo un dramma un disastro un asteroide ha colpito da terra un virus ha trasformato tutti in zombie scoppiata la terza guerra mondiale tutti siamo uno contro l'altro il coronavirus non era così poco letale e invece ci ha messo veramente nei guai è tornata la peste è sicuro il vostro rifugio è in un ambiente sicuro cosa significa un ambiente sicuro protetto dagli elementi nascosto difficilmente trovabile da altre persone facilmente difendibile adesso abbiamo un rifugio quindi passiamo al punto 2 punto 2 è cibo e acqua voi lo sapete che è più facile morire di sete che di fame perché dopo tre giorni circa se non bevi e muori poi anche resiste invece un mese senza mangiare vabbè io anche di più perché sono ciccione però normalmente le persone non hanno questi problemi abbiamo scorto di cibo? ricordiamoci che il cibo deperibile carne, uova, frutta, verdura sarà il primo a mancare perché andrà male nel giro di pochi giorni quindi non avremo più questo tipo di cibo quindi il cibo che ci interessa è il cibo a lunga conservazione, il cibo in scatola fondamentalmente che è facilmente trasportabile e comunque dura per lungo tempo, per parecchio tempo abbiamo cibo quindi il rifugio? si, no, non lo so è importante sapere sempre sotto controllo questa cosa, sapere quanto cibo abbiamo e soprattutto sapere dove possiamo andare a trovare dell'altro ci sono dei supermercati, dei bositi di cibo, delle case da saccheggiare insomma è importante avere questo tipo di informazione senza mangiare e senza bere si muore quindi la prima cosa a fare è questa sapere dove trovare cibo e acqua come gestiamo i pasti, mangiamo quando abbiamo fame, mangiamo tutto ciò che c'è oppure razionalizziamo il tutto facciamo razioni di cibo in modo tale di non rimanere senza e durare il più a lungo possibile ovviamente la seconda, non mangiamo a cazzo ma organizziamoci in modo tale che il cibo duri il più a lungo possibile dove siamo? è possibile? è una zona che ci permette di cacciare? è una zona che ci permette di coltivare qualcosa? ci sono alberi da frutta? c'è qualcosa che ci permette di sopravvivere? è molto importante avere un'analisi di tutte queste cose la salute abbiamo dei medicinali? sappiamo dove trovarli? quali medicinali abbiamo bisogno? allora è inutile avere centinaia e centinaia di medicinali è importante avere dei medicinali che ci servano realmente l'aspirina, degli antinfiammatori, degli antibiotici ad ampio spettro e poi se uno delle malattie particolari come me il diabete è un farmacente di diabete anche se credo che nel giro di un mese in questa situazione il mio diabete si stabilizzerà perché dimagrirò talmente tanto che quindi non avrò neanche più da dover prendere farmaci garze, garze, disinfettanti questi sono fondamentali perché siamo sempre in giro, siamo fuori possiamo farci del male, possiamo tagliarci, è molto importante ed è molto importante averne parecchie in nostro rifugio poi avremo il nostro zaino, si è importante avere uno zaino sempre a portata di mano dove terremo alcuni medicinali e alcune garze, non tante per quando ci muoviamo andiamo in giro ricordiamoci che i medicinali scaduti non è che facciano male normalmente semplicemente perdono la loro efficacia più passa il tempo dalla data di scadenza più l'efficacia diminuisce quindi ricordiamoci che probabilmente dopo qualche anno ci troveremo in difficoltà parliamo dello zaino lo zaino deve essere riempito con tutte cose che ci servono assolutamente lo zaino è quel contenitore che pigliamo al volo mentre dobbiamo scappare magari veniamo assaliti dai cattivi e a questo punto prendiamo lo zaino e scappiamo cosa ci deve essere dentro uno zaino? medicinali senza scatole, scatole portano via spazio cibo, cibo a lunga scadenza, un coltellino svizzero, un coltello vero, cioè quelli belli grossi delle torce, torce possibilmente ricaricabili a mano, le vendono in molti negozi una radiolina AM FM sempre ricaricabile, possibilmente a mano o con energia solare un cibi, cibi vi ricordate una volta era molto di moda all'interno quando andavate in giro ogni camion aveva cibi col suo nickname e compagnia bella ecco quelle sono delle radio per trasmettere e ricevere senza grosse difficoltà cellulare, cellulare molto probabilmente non funzionerà in questa casa ci saranno o i ponti completamente occupati oppure manca l'elettricità o non ci sarà più gestione di niente, quindi non fate troppo affidamento sul cellulare anzi, evitate proprio proprio punto 5, meglio star da soli o in gruppo? qui ci sono diverse cose, se sei da solo fondamentalmente sei più veloce ti nascondi con più facilità, insomma non hai da occuparti di nessuno, devi occuparti solo di te stesso però di contro sei molto più debole perché se incontri dei gruppi hai la peggio rispetto a dei gruppi di persone organizzate di contro se sei invece in gruppo hai più protezione, sei meno libero, sei meno mobile però avrai più possibilità di trovare risorse, più possibilità di trovare cibo, più possibilità di trovare acqua, più possibilità di trovare armi più possibilità di trovare medicine, anche però tutte cose che dovrai dividere con gli altri attenzione perché in un gruppo poi dovesse mancare qualcosa in queste situazioni se non si è molto ben organizzati vige la legge del più forte la legge del più forte cioè il più forte mangia per primo oppure il più forte mangia il più debole sì lo so, ah 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 che ridere no, sono casi che succedono sono cose che sono successe, non so, leggetevi i libri la tenda rossa, altri libri di questo tipo dove viene raccontato cosa succede in situazioni gravi d'emergenza e di sopravvivenza perché ricordate qui non si parla di vivere si parla di sopravvivere punto 6 la zona, conoscere gli ambienti dove ti trovi per prima cosa avete mai provato a pensare dove vivete? non so, dov'è un punto di raccolta per le emergenze? ogni comune in Italia dovrebbe avere creato un punto di raccolta o più punti di raccolta per le emergenze voi lo sapete dove sono? voi sapete dove sono tutti i sopermercati dove sono tutti i depositi di cibo vicino a casa vostra? voi sapete dove sono le farmacie i depositi di farmaci vicino a casa vostra? voi sapete dove andare a recuperare delle armi vicino a casa vostra? ecco, se non conosce tutte queste cose qui non siete pronti per un'emergenza naturalmente una volta che si entra in emergenza è probabile che vi dobbiate spostare dove siete quindi tutti questi controlli dovrete farli nel nuovo luogo che avete scelto di residenza se vi muovete spesso essere in tanti, come dicevamo prima può essere giusto e corretto per avere queste informazioni sempre aggiornate o comunque averne il più possibile naturalmente è importante avere delle cartine e sì, cellulari, google maps non funzionerà più avere delle cartine cartacee delle zone quindi diventa importante trovarne quando vi spostate dove segnare tutte queste cose naturalmente sulla cartina non segnate dove è il vostro rifugio perché cadete in mani di gruppi di cattivi se ci fosse segnato il vostro rifugio questi potrebbero attaccarlo e rubare tutte le risorse anche ai vostri compagni gli tradireste in pratica quando siete in un luogo che sia casa vostra o un nuovo rifugio dovete controllare prima di tutto se sia ben difendibile ma soprattutto crearvi delle vie di fuga perché se dovete scappare dovete sapere già in che zona dovete dirigervi come scappare in modo tale di non essere catturati il punto 7 è diviso in due la cosa importante è capire perché siamo in un'emergenza cioè cosa è successo? c'è stata la terza guerra nucleare? c'è stata la terza guerra pardon c'è stata la terza guerra mondiale? ok è nucleare? hanno buttato le bombe atomiche vicino a dove siamo? quindi non posso stare nascosto un giorno e poi uscire dopo due o tre giorni perché sarebbe un problema quindi sono attrezzato per questa avvenienza? ragazzi durante la guerra fredda soprattutto negli Stati Uniti ma non solo c'era chi si attrezzava adesso saremmo decisamente preparati ma forse è meglio così perché quando dicono che con la terza guerra mondiale atomica non rimarrebbe niente per decine d'anni se non c'è niente d'anni forse è meglio morire subito sotto la bomba atomica ma nel caso di una terza guerra mondiale tradizionale beh non ci sono radiazioni può essere interessante sapere dove nasconderci come proteggerci vedere se l'esercito ho già disposto dei punti di raccolta per i superstiti dove nasconderci come fai? sono tutte queste cose se invece c'è un'epidemia e se invece c'è un'epidemia c'è da comprendere come viene trasmessa questa epidemia e qui diventa difficile se l'epidemia si trasmette per contatto per via aerea è un problema stare in gruppo perché stare in gruppo se qualcuno si ammala fa ammalare tutti gli altri quindi diventa un problema e come fare? in base a ogni situazione dobbiamo muoverci in modo differente 7-2 era appunto la gestione del gruppo in caso di epidemia quindi ne abbiamo già parlato 8 questa è una cosa brutta soprattutto per chi come me ama moltissimo gli animali i suoi gatti ha chiamato tantissimo anzi purtroppo uno dei due è morto dopo 15 anni di tumore pochi giorni fa ciao Dodello abituiamoci a non pensare più di non mangiare gli animali che ci piacciono in caso di catastro dopo mesi anni la fame è fame si tratta di sopravvivere non si tratta non si tratta altro solo di sopravvivere i cani vanno bene se sono addestrati se sono silenziosi perché ovviamente cani che si mettono a bagliare a cazzum vuol dire farsi trovare quando si è nascosti i gatti i conigli insomma signori lo dico con un peso al cuore però bisognerà riuscire a cambiare mentalità nel caso di succedere qualcosa di brutto come passare il tempo in queste situazioni cioè succedesse una cosa del genere cosa facciamo dalla mattina alla sera ci annoiamo ci suicidiamo no dobbiamo tenerci impegnati tenersi impegnati come i nostri progenitori il cui impegno quotidiano era quello di andare in giro a cercare cibo a cercare acqua a costruire la capanna a costruire difese c'era poco tempo peraltro e ci troveremo in una stessa situazione se siamo da soli dovremo fare tutto per conto nostro se siamo in gruppo ci divideremo i compiti sarà chi andrà a esplorare il territorio a raccogliere cibo a trovare medicine armi c'è chi si occuperà se è possibile di coltivare qualcosa c'è chi si occuperà di migliorare le difese c'è chi si occuperà di fare la guardia c'è chi si occuperà degli alloggi insomma saranno dei compiti in modo tale di avere più tempo possibile impegnato nel tempo libero se è possibile libri leggere libri riviste roba vecchia giochi società giochi società aiutano molto a passare il tempo insieme giocare a carte cose di questo tipo è veramente un ritorno alle origini il punto 10 ed è il più importante l'ho già accenato prima qui non si tratta più di vivere ma di sopravvivere quindi si tratta di essere pronti a qualsiasi cosa per minare in vita noi abbiamo una coscienza abbiamo un'educazione al rispetto di altre persone al rispetto della vita e questo potrebbe essere un problema in caso di catastrofe di pandemia di situazioni tragiche perché il non superare la nostra coscienza la nostra educazione potrebbe significare vita o morte bisogna entrare nell'ottica che stiamo sopravvivendo che se qualcuno vuole uccidermi io devo difendermi e devo ucciderlo altrimenti io sono morto oddio potrebbe anche essere una scelta in situazioni del genere perché non so quanto mi piacerebbe vivere in un mondo tornato veramente all'età della pietra ci sono film serie tv The Walking Dead è una di queste dove si è continuamente messi alla prova in queste situazioni forse io non vorrei esserci quindi magari non mi difenderei da subito o spererei di essere morto già all'inizio del disastro se però continuate volete andare avanti dovete mettermi in ordine di idee che lo fate per sopravvivere cioè uccidere un'altra persona che vuole uccidervi non sarà più una cosa di coscienza ma per rimanere vivi aggiungo un nuovo punto il punto 11 meglio da soli o in gruppo e se in gruppo come deve essere composto il gruppo allora io sono per il gruppo non per essere da soli il gruppo è potenza è forza è sicurezza però è importante che il gruppo sia composto molto bene nel gruppo è importante avere almeno un dottore o una dottoressa in medicina un bravo chirurgo o una brava chirurga perché sarà molto importante se possibile degli infermieri o delle infermiere perché sono molto importanti un ingegnere civile un ingegnere civile certo perché può aiutare a costruire a progettare cose persone con preparazioni militare prendetemi subito qualcuno che sappia coltivare perché è importante saper coltivare queste situazioni anche saper coltivare l'insalato e i pomodori vuol dire avere cibo vuol dire poter mangiare tutti i giorni qualcosa di sano e di fresco ci sono tante altre professionalità che sarebbe interessante avere un ingegnere elettronico per esempio un ingegnere in costruzioni elettriche ed elettroniche in modo tale che sia possibile riparare le radio creare dei semplici sistemi di produzione di energia elettrica insomma tutto ciò che ci permette di vivere e di avere un minimo di comodità comodità che non è per star comodi sedate sul divano ma è per la salute perché avere acqua calda e poter salvare tutti i giorni migliora la salute la salute del singolo e del gruppo la possibilità di avere riscaldamento d'inverno se siamo in una zona fredda significa migliorare la salute delle persone insomma cambia completamente il paradigma il paradigma è sopravvivere e non più vivere e sopravvivere in gruppo perché è l'unico modo per riuscire ad andare avanti lo so questo non è un video di quelli allegri belli divertenti io mi auguro che nessuno di noi dovrà mai e poi mai trovare situazioni del genere però è sempre meglio essere preparati al peggio se vi è piaciuto questo video ricordatevi che sto preparando il video di 100.000 iscritti iscrivetevi pigiate sulla campanella così vedrete sempre e avvisate quando pubblico nuovi video se siete arrivati fino a quasi degli eroi o delle eroe e vi ringrazio tantissimo ciao a tutti alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti